Accordo raggiunto tra Regione e Terre Ioniche per gli alluvionati, varato un programma di interventi. E finalmente buone notizie per gli alluvionati del Metapontino, oggi a Bernalda, nel corso di un'assemblea pubblica convocata dal Comitato Difendiamo le Terre Ioniche. Accordo raggiunto con la Regione Basilicata per il parziale risarcimento dei danni e la salvaguardia del territorio. I particolari da Luigi Di Lauro. Cabbina di regia sugli eventi alluvionali, coordinata dalla Presidenza dell'Aggiunta regionale, avvio del percorso per la sottoscrizione del cosiddetto contratto delle foci, parziale indennizzo delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali e definizione delle azioni per l'assetto del territorio, per evitare che eventi catastrofici come quelli che negli ultimi tre anni hanno messo in ginocchio il Metapontino possano ripetersi. Sono i quattro punti su cui in questi mesi è andato avanti il confronto fra il Comitato Difendiamo le Terre Ioniche e la Regione Basilicata. Il confronto che oggi a Bernalda ha trovato un punto d'arrivo con l'assunzione di impegni precisi da parte del Presidente della Regione, Marcello Pittella. Io penso che la proposta che si snoda in quattro punti è stata ampiamente discussa, condivisa, è frutto di un lavoro che da qualche mese a questa parte stiamo mettendo in campo. Del resto noi dobbiamo chiamare a responsabilità non solo la Regione per quello che è la responsabilità, ma anche il Governo nazionale per dare una risposta possibilmente compiuta al disagio, al dramma in alcuni casi che gli agricoltori, gli imprenditori, i cittadini di questa terra stanno vivendo da qualche anno a questa parte. La tappa di oggi rappresenta un risultato per il Comitato Terre Ioniche. È il frutto di lavoro di tre anni e mezzo, noi non demordiamo, abbiamo posto quattro questioni alla Regione Basilicata, su tutte e quattro le questioni in una riunione aperta come quella di oggi il Presidente ha dato le risposte e ha preso l'impegno che la sua struttura si mette al lavoro su questo. Da domani mattina noi verificheremo puntualmente che tutto questo accada. Sì, si avvia da oggi un ulteriore tavolo che sui quattro punti specifici prova a dare in autunno a questa cittadinanza le risposte necessarie, quelle concrete. La politica cambia pelle perché dialoga, partecipa, elabora ma dà anche conto di quello che fa e dunque verrà in autunno a dar conto di quello che verrà fatto.